Siamo nel quartiere Provvidenza in via Laimo. Circa due mesi fa siamo venuti qui perché avevano chiuso la strada, perché la casa era pericolante, la casa di fronte era pericolante. I residenti di questo palazzo, che giustamente sono proprio attaccati a questo muro, lamentavano il fatto che per arrivare in Piazza Garibaldi o in centro dovevano percorrere una lunga strada, soprattutto la sera al buio, abbastanza pericolosa. Cosa è cambiato dopo due mesi? Non è cambiato proprio niente. Anzi, dobbiamo ringraziare l'ingegnere, dopo tante camminate, che ci ha aperto questa porticina da poter dare accesso alla piazzetta. Perché altrimenti dovevamo fare tutto il giro con la spesa e tutto quanto. Da quella scalinata lì, come si fa? Mio marito ha 86 anni. Si può con il carrello? Allora è stato così gentile, veramente. Abbiamo fatto domande contro domande ed è venuto ad aprirci questo pezzettino qua. Piccolo quello che è, pazienza, però almeno possiamo accedere alla piazzetta, possiamo andare anche in chiesa. C'era una signora, poverina, che ha 90 anni, piangeva che non poteva andare in chiesa. Allora, almeno siamo riusciti anche per lei. E cosa dobbiamo fare? Con la speranza che loro dicono tre mesi, già due mesi sono passati, che fra un mese dovrebbero buttare giù questa casa. Noi lo speriamo, qua siamo. Perché è anche un pericolo per noi, passando, e se cade qualcosa, ci ammazza. E mi dica lei cosa dobbiamo fare? Lei mi diceva che è venuto quello del metano e non voleva entrare lì dentro. Non voleva entrare. Non è voluto entrare, neanche con un cappello da daglieno. Non è voluto entrare. E cosa dobbiamo fare? Anche perché non vorremmo essere polemici, ma mentre eravamo qui abbiamo visto passare diverse persone. È proprio stretto il passaggio. Cioè bisogna essere magri o comunque non avere sacchetti della specie. Che fanno la sera gli extracomunitari perché vanno a fare pipì là e tutto quanto? Io devo con la ragazza dargli sempre cose di cantigina da buttare là. Ma cerchiamo di essere un po' coerenti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci di traverso anche per passare. Tutto questo è. E se avete il carrello della spesa ai sacchetti è complicato? Certo, anche passare con l'ombrello è complicato. Dobbiamo chiudere l'ombrello e ci bagniamo tutti. Non parliamo delle cassette d'acqua? Quello poi è una cosa impossibile. Il comune, queste lamiere, è quindi buio completo. Perché almeno prima non c'erano le lamiere. spiedeva un attimino. Adesso io ho dovuto comprare una torcia. Quando non me la dimentico la porto per poter passare. Mi dica lei, è meglio che ce la prendiamo a ridere perché altrimenti, guardi, è un nervoso unico. Quindi la sera al buio è pericoloso perché non sapete chi potete trovare lì dentro? Logico, è così, è normale. Con un bastone mio marito, male che vada, gli do un colpo di bastone in testa. Ma è un pericolo pubblico per noi. Cosa facciamo? Al momento così ci dicono, che non si può fare nient'altro perché il comune non ha soldi. Qui a dire di mettere queste tavolate qua, gli ha detto mettete poco materiale perché non ci sono soldi. Qui siamo intietro di cento anni.